Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide, oggi andiamo a fare una piccola, anzi diciamo che è un collage questo video, non è nient'altro che un insieme di tanti unboxing che andrò a fare in questo periodo, perché purtroppo la clausura che ci sta chiudendo qui in casa con il coronavirus mi sta anche portando a fare alcuni piccoli acquisti che insomma mi daranno la possibilità di continuare a vivere la mia vita nella maniera in cui l'ho sempre vissuta, purtroppo non posso più uscire, non posso più allenarmi e andare a correre, non posso più leggere al parco, non posso più leggere in alcuni momenti ben precisi come quando andavo a portare fuori il cane, perché porto il cane in questo momento vicino casa e quindi non ho la possibilità di appoggiarmi, di sedermi, di quant'altro e quindi ho bisogno purtroppo di alcune cose che mi daranno la possibilità di continuare a fare le mie, diciamo, routine che mi daranno, anzi che mi danno la mia stabilità, la mia tranquillità. Allora, incominciamo con questi tre pacchi, sono tre pacchi che contengono un prodotto che già sapevo che mi sarebbe dovuto arrivare, stavo aspettando da qualche giorno, purtroppo Amazon in questo periodo, anche se c'è il Prime, non consegna più dopo un giorno, ma consegna quando gli gira insomma, e hanno questi problemi logicamente, li capisco benissimo, non è colpa loro. Allora, incominciamo, sono tre prodotti tutti e tre uguali, ma di differenti dimensioni, incominciamo dal primo, questo qui è un elastico, non è nient'altro che una loop band. La loop band cos'è? Non è nient'altro che una fascia elastica che dà la possibilità di avere una tensione nel momento in cui uno la utilizza. Con questa tensione è com'è andare ad avere un peso definito. In questo caso, questa loop band è una loop band che ha una tensione, vediamo subito perché c'è il foglietto all'interno, e vi dico subito la tensione che ho preso con questa loop band. Allora, andiamo a vedere. Ah, la cosa figa è che c'ha tutti gli esercizi che possono essere fatti con questa loop band. Molto figa questa cosa anche perché in questa maniera ho la possibilità di andare a capire cosa fare, invece di andare a lavorare senza avere un'idea di ciò che sto facendo. Allora, la loop band che ho acquistato è quella rossa da 1.3 cm, c'è scritto anche qua sopra se vedete, con una tensione che va dai 4,5 ai 16 kg. In questa maniera ho la possibilità di andare ad allenare determinate fasce muscolari, che sono tra parentesi con questa tensione, sì, questa tensione sono le spalle. Ora non andrò a utilizzare questa loop band per tutte e due le spalle come in questa figura che è qui. Vedete, questa figura è un po' troppo bianco, è già, vedete un po' se riesco a farvelo vedere. Vedete questa figura qui dove utilizza soltanto una fascia? Beh, in questo caso non sarà questa la fascia, ma ne avrò due, quindi mi aspetto di andare a trovare anche la seconda. E in effetti c'è scritto proprio qui sopra, non si vede praticamente nulla con il bianco che mi sto sparando, ecco qua. La luce che mi sono sparato. Comunque è qui sopra la 0,5 inch, quindi 1.3 cm. Andiamo ad aprire anche la seconda busta così andiamo a verificare se è proprio lì, dovrebbe essere proprio lì. Non si apre, ecco qua, ok. Non so per quale motivazione una mi è arrivata senza busta di Amazon, invece le altre due mi sono arrivate con la busta di Amazon. Non capisco l'utilità, è probabile che la mia ragazza abbia aperto prima di dirmi qualcosa, ma non si può, non si può, non si può. Allora, sì, questa qui è l'altra rossa, come vedete, ne ho in questo momento due, ecco. E queste qui, come vi ho già detto, mi daranno la possibilità di fare un allenamento bilanciato nella medesima maniera. Sono un po' incollate probabilmente dal calore, si sono attaccate, sperando che non si siano anche rovinate, anche se teoricamente hanno la garanzia. Quindi nel momento in cui si rompono io vado a richiedere il riso. E queste sono due loop band, loop band da 4, 5, 15 e in questa maniera si possono fare determinati esercizi, possono essere anche solo questi qua, per esempio il, si mettono qui dietro, si fa in questa maniera e per esempio posso fare delle alzate con, per dire, una suppanca piana, solo che siamo in piedi e faccio in questa maniera. Due sono veramente resistenti in due, logicamente una singola avrà una resistenza differente e singola per braccio avrà ancora un'altra resistenza. Per avere più resistenza basta soltanto andare ad aumentare la tensione e quindi per aumentare la tensione di una molla basta solamente andare a mettere il piede in un punto, scusate ma sta prendendo fuoco, mettere in un punto preciso il piede dentro all'elastico ecco, quindi basterà soltanto aumentare la tensione e andrà ad aumentare anche il peso. E con questo ho preso anche, logicamente, la singola un po' più potente che non è nient'altro che la loop band viola che ha una tensione, ve lo dico subito. Questa qui è una loop band da 3,2 cm con 18,36 kg, c'è scritto qui sopra, vedete, 18,36 kg, 3,2 cm. Questa, logicamente, potete fare gli stessi esercizi o anche altri, ce ne sono veramente tanti. Poi andrò proprio a fare, vedete quanti esercizi ci sono, ma ce ne sono anche altri. Poi andrò a fare una piccola scheda, non per, insomma, per insegnarvi a fare l'allenamento, ma per farvi vedere qual è l'allenamento che seguo io nei momenti in cui sono qui. E devo anche andare a prendere un altro prodotto che mi sono dimenticato, mi sta po' venendo adesso in testa nel momento in cui sto parlando con voi. Devo andarlo a prendere, sicuramente mi arriverà, spero, entro inizio della prossima settimana, purtroppo dovrebbe arrivare entro un giorno con Prime, ma non è così. Questa è una fascia molto, 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 molto più, più forte. In questa maniera ho sicuramente la possibilità, come stavo facendo prima, di fare degli esercizi nettamente più, più forti, ecco, più importanti. E invece di andare a utilizzare le due fasce accompagnate, potrei mettere, per aumentare ancora di più la tensione, una fascia rossa e una fascia che sembra blu nel video, ma in realtà è viola. E in questa maniera posso andare a aumentare la tensione, quindi la resistenza, ma in compenso, essendo più rigida, non andrò a stressare così tanto la banda come quella rossa, che per avere una tensione maggiore dovrò, logicamente, tirarla di più. Ecco per quale motivazione ci sono diverse dimensioni di banda. Questo è quanto, andiamo al prossimo unboxing barra causa acquisto. È sempre lo stesso giorno, sto solo continuando il video, quindi voglio andarvi a portare il nuovo D-Landog 402. Se qualcuno di voi avesse mai visto i primi D-Landog, quindi il numero 1, il numero 2, il numero 3, sembra che si stiano rifacendo totalmente ai titoli vecchi. Vedete, qui si chiama Il tramonto rosso. E vi racconto velocemente la storia, è il primo incontro con Xabras, che non è nient'altro che il suo opposto. In ogni D-Landog, dico in ogni D-Landog anche se è l'unico, però teoricamente questa è, diciamo, un altro multiverso, ecco. E in ogni D-Landog c'è sempre stato Xabras, che in alcuni momenti si pensava fosse il padre di D-Landog, il padre Viro, perché sapete che D-Landog è un bambino che è stato adottato in questa storia dal capo della polizia, mentre nelle altre storie da altre persone. E grazie proprio al fatto che è adottato, teoricamente il padre non dovrebbe essere conosciuto, ma la madre sì, ogni tanto è più facile riuscire a risiedere la madre. Mentre in questo caso il padre è Xabras, che non è nient'altro che una persona che cerca sempre di combattere la morte e di rendere vive le persone morte o di farle vivere per sempre. Infatti lui è uno che lotta contro proprio la morte in sé per sé e la morte in questo caso va a chiedere aiuto a D-Landog per riuscire a combattere il suo nemico terreno. E questo è una puntata molto bella, molto interessante. La cosa fichissima, che ho apprezzato tantissimo, è che è la continuazione del 401. Quindi in questa maniera, se tu vai a leggere il 401, in automatico la continuazione la ritrovi qua sopra con il 402. Infatti il 402 inizia dall'ultimo episodio, anzi dall'ultima vignetta del 401. L'ho trovata bellissima questa cosa, proprio perché diventa quasi un telefilm scritto, insomma, su carta stampata. Bene ragazzi, continuiamo con l'unboxing. Mi sono arrivati altre due pezzi. Allora, uno è il libro della Nike. Nessamente, precisamente, non so di cosa parla proprio di tutto. Guardate, mi è arrivato con questo bordo un po' rovinato. E vabbè. Non so cosa parla di preciso, però dovrebbe essere proprio l'autobiografia... Ah, ecco, si è scritto qui. L'autobiografia del fondatore della Nike e l'arte della vittoria. Ne hanno parlato benissimo di questo libro. Dicono che è un libro proprio della storia del fondatore della Nike, di Phil Knight, che è scritto romanzato. Quindi è anche semplice da leggere, veloce. A me piacciono poi tantissimo le biografie. Questa addirittura è una autobiografia, quindi proprio parla di sé il fondatore della Nike. E per rimanere in tema di libri, ho acquistato il Kindle, quello base, del 2019. Quindi l'ultima versione, è nuovo. L'ho arrivato da Amazon solo che la mia ragazza, come al solito, si fa i fatti suoi e me l'ha già unboxato. E questo è il Kindle ed è nient'altro che il reader, l'ebook reader di Amazon, che mi servirà, come vi ho detto, in questo periodo. Proprio perché, dato che a me piace molto leggere, ma non riesco a leggere in questi giorni, per problemi di... Non riesco ad andare nei posti, ecco, dove vado a leggere. Guardate che figata, sta in controluce lucido un albero con una persona che legge sul tablet. L'unica cosa che non vi piace è la curva della schiena, perché purtroppo a causa di queste cose che noi facciamo, siamo diventati curvi. Guardate, questa è la dimensione, vi faccio vedere il mio S7. Sì, pure con il trapparenti e il monitor spaccato. E questo è la dimensione. Non si può vedere benissimo da qua, ecco qua, vedete? Questa è la dimensione, l'altezza e la larghezza, vi faccio vedere di qua, guardate. E cerca una volta e mezza lo smartphone. E' molto figo, poi trapparenti ho preso questo qui, non l'ho preso prima, per una semplice motivazione. Gli altri, le altre versioni, non avevano i led per la retroilluminazione del monitor. Quindi di notte tu non potevi leggere, è una gran cavolata. E quindi non l'ho mai preso prima d'oggi. Invece questa versione nuova l'hanno messa con la retroilluminazione e quindi adesso l'ho presa. Manualino, non serve a nulla. C'è questo foglietto e poi c'è il Kindle. Ma dai ragazzi, sarà come tutte le cose ormai tecnologiche. In effetti, se ci pensate, non leggiamo più i libretti di istruzioni, perché tutto ciò che adesso fanno è tutto così tanto user-friendly che non hai più bisogno di andare a leggere le informazioni di base del prodotto. Cavetto micro usb, usb, non so perché non c'ha la fascetta, però insomma essendo sigillata la scatola sono certo che non è un reso o ricondizionato. E quindi questo è quanto. Andiamo a vedere cos'altro compro questo miso. Onestamente non lo so neanche io. Sarà una sorpresa anche per me. Bene, altro unboxing. Allora, mi sono arrivati altri due pezzi. Ora voi direte, Davide, ma quanto stai ordinando in questi giorni? In realtà non sto ordinando tantissimo. Ho ordinato tutto insieme, delle robe, pochissime, tra parentesi. È solo che stanno arrivando tutte divise. Proprio per il fatto che Amazon ha deciso, giustamente, di gestire tutto il potere logistico della quale dispone e andarlo a smaltire, o comunque anzi a distribuire in maggior quantità sui beni di prima necessità. Quindi, in questa maniera, tutto ciò che sto ordinando, che non è bene di prima necessità, arriva in ritardo. Teoricamente, tra l'altro, cinque giorni dovrebbe avviarmi altra roba. Però l'ho ordinata tutta insieme, questo è il fatto. Allora, andiamo a vedere subito che cosa è questo. Dovrebbe essere una cosa stupidissima che avevamo ordinato il tempo fa io e la mia ragazza. Sì, è lui. Allora, non è nient'altro che una frase scritta che, insomma, non mi ricordo manco di cosa c'è scritto su questa frase, che viene attaccata al muro. E in questa maniera, poi, insomma, c'è questa frase carina. Vediamo anche che frase è. Ah, ok, ok, ok. Happy and think be happy. Sii felice e pensa felice. Di essere felice, cioè una cosa del genere. Happy think be happy. Ok. Pensa di essere felice e sarai felice. Sii felice. È una cosa simile. E questa è una frase che avevamo ordinato io e la mia ragazza. Volevamo metterlo o all'ingresso di casa o sopra il letto. Ora vediamo. Dobbiamo anche capire come distribuirla perché questo è tutto su una striscia ma in realtà deve essere suddivisa in maniera differente. E poi avevo ordinato un pezzo che devo andare a mettere, logicamente, insieme al... Avete già visto al... A questo qua. Non mi viene ancora il nome. Al Kindle. E dovrebbe essere arrivato. Sì, infatti, è lui. Non è nient'altro che la cover per quanto riguarda il Kindle. Dovrebbe essere, almeno così c'era scritto sulla descrizione, è una cover intelligente. Alla fine è quella che costava... Tra quelle che costavano di meno. Infatti è... Tutta plastica. Sì, tranne l'interno che è vellutino. Qua è tutto plastica, niente di che c'è la scanellatura qui per essere in... Per lasciare i tasti liberi e in questa maniera io la incastro come una cover normalissima. In automatico è chiuso. Io ho, prima di tutto, più grip. Una cosa importante. Infatti, se io vado adesso ad attivarlo e vado a slasciare sopra... Ok. Esce la scritta. Vediamo se è vero che è intelligente, quindi che funziona... Che la chiude. Metto giù. È vero. Perché l'ha messo in... In spento. È una cosa buona. Non capisco come funzioni anche perché... Forse c'è un magnete. Quindi a causa del magnete... Sapete che non so come funziona? Vabbè, comunque funziona così. È nient'altro che una cover che va a coprire... Dato che questo lo utilizzo quando esco con il cane o, insomma, lo lascio ovunque. Questo lo prendo e lo lascio così. Dato che è plasticaccia, cioè ragazzi... Rispetto a uno smartphone, il Kindle è plastica pura. Questa cover mi conviene. Prima di tutto perché c'è più grip. Invece sul Kindle, in sé per sé, non c'è grip. È troppo liscio. E in secondo momento ho la possibilità di aprire e chiudere. Tipo un libro, insomma, più carino. Messo così è molto più figo. Poi, ripeto, la parte vellutina di sotto mi dà un po' più di grip quando lo vado a utilizzare. Bene, bene. Buon acquisto. Allora, siamo arrivati alla fine di questo unboxing che praticamente è durato un mese intero. Vi devo fare degli appunti. Allora, il Kindle con, logicamente, la cover, la back cover è eccezionale. Mi piace tantissimo. Lo sto usando un casino. Sto leggendo veramente tanto in questo periodo proprio perché c'è lui. Perché io posso portarlo dove voglio, perché lo posso aprire in qualsiasi momento, anche mezz'ora, un quarto d'ora e posso leggere. Mi sta veramente piacendo tanto, tanto, tanto. E un'altra cosa che invece sto utilizzando, ma un po' meno, sono questi qui. Ossia gli elastici. Gli elastici che sto utilizzando molto meno per... Non perché li abbia acquistati in maniera impulsiva o non li voglio utilizzare o non mi piacciono o non mi sto allenando. Ma proprio perché ho avuto per una settimana intera dei dolori alla spalla e al collo. Per un'altra settimana non sono stato bene. E per poi le altre due settimane, sì, mi sono allenato. Quindi non li ho usati tantissimo. Li ho usati su un mese intero, diciamo, quattro settimane. Mi sono trovato bene. Io onestamente pensavo che quelli rossi fossero meno resistenti, quindi portassero meno carico. Invece sono molto resistenti. Un po' perché io sono alto e quindi nell'attendere questi rossi arrivo veramente alla tensione massima che possono dare questi. E un po' perché l'elastico in sé per sé comunque viene utilizzato per diversi esercizi. E allora, per esempio, per le spalle che insomma vanno molto in altro nell'estensione dell'elastico sono eccezionali, idem anche per i tricipiti. Per quanto riguarda i bicipiti preferisco più utilizzare questo viola messo sotto le gambe con una presa un po' più in basso. Quindi in questa maniera riesco già ad avere una tensione maggiore immediata. E per quanto riguarda i deltoidi, anche questi sono buoni. Per quanto riguarda gli addominali non ne ho bisogno. C'è un altro esercizio che non mi sto ricordando. Ah sì, i dorsali in posizione diciamo 90 gradi. E questi qua non sono per niente buoni perché hanno un'estensione troppo lunga rispetto alla posizione. Questa qua invece è ottima per quanto riguarda proprio quella posizione. Poi ci sono altri esercizi ora che non mi sto ricordando che comunque mi hanno fatto pensare che questo elastico è ottimo ma ci vorrebbe l'intermedio tra questo e questo. Purtroppo su Amazon è uscito in non fuori produzione ma overstock. Anzi fuori stock perché non ne hanno più, ne hanno venduti probabilmente troppi e quindi non posso più acquistarlo. Ma per gli acquisti che ho fatto questo mese sono super contento. L'unica cosa che non c'entra con questo mese ma c'entra col mese scorso se non sbaglio è questo. Il Galaxy Fit mi sta deludendo un pochino. Non è una delusione importante, insomma funziona benissimo, fa tutto quello che deve. Ancora momentaneamente purtroppo non essendo andato a correre non l'ho utilizzato come bisogna. Ma insomma pensavo che si potessero mettere, questa è una cosa stupida però è così, si potessero mettere le sveglie direttamente sull'orologio e dall'orologio anche a cellulare spento ricevere la sveglia. Invece col cellulare spento la sveglia non suona. Questa è una cosa molto importante per me perché spesso io spengo il cellulare di notte e invece con questo non posso più spegnerlo. Devo sempre tenerlo in attivo, magari anche vicino. E purtroppo è un problema perché se magari mi dimentico il cellulare di notte da un'altra parte della casa, non vicino al mio letto, non suona la sveglia. Questo è un problema importante soprattutto perché lo utilizzo per svegliarmi, per andare al lavoro. E niente, questo è quanto. Io vi ringrazio per aver visto questo video ancora una volta. Vi ricordo di mettere like, spoliciare, fate tutto quello che dovete fare. Instagram davidevasco85 e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!